Apre oggi battenti al grande pubblico la mostra su De Chirico che la fortezza di Montepulciano ospiterà fino al 30 settembre, dal titolo Giorgio De Chirico e il ritratto, figura e forma. Un percorso inedito, firmato Catherine Robinson, che attraverso 68 opere dedicate alla figura umana tra dipinti, bozzetti e sculture, passa in rassegna tutte le fasi della produzione artistica del maestro, dalla prima metafisica alla neometafisica degli anni 70, aprendo così uno spaccato non soltanto sulla sua arte ma anche sulla sua biografia. Abbiamo fatto un discreto sforzo per organizzare questo evento e lo abbiamo potuto fare grazie all'impegno della Fondazione Cantiera Internazionale d'Arte che ha curato l'allestimento e la realizzazione, l'abbiamo fatto grazie al Rotary Club di Montepulciano, Chianciano e Chiusi che hanno messo delle risorse importanti, l'abbiamo fatto grazie all'Auser che con il proprio volontariato ci aiuterà nella gestione dei giorni della mostra, l'abbiamo fatto grazie a tanti altri sponsor del territorio, insomma, oltre naturalmente a un investimento importante da parte dell'amministrazione comunale. Questo per dire semplicemente che non solo noi ma tutto il territorio crede in questi eventi. Montepulciano conferma insomma la propria vocazione culturale, dopo Macchiaioli e la Farfalla e il Dragone dedicata all'arte orientale propone un'altra grande mostra ad apertura del cartellone estivo 2013, il primo di tanti eventi di altissimo livello. Speriamo che questo sia davvero l'inizio della nostra stagione turistica molto ricca, molto ricca che poi seguirà con il cantiere d'arte e poi con le altre manifestazioni, Bruscello e Bravio anche.